Ok, 1,2,3 prova, 1,2,3 prova, vediamo se funziona. Hola, 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 io sono Max, dei berrofronzo, benvenuti. Bah, che c'è? Fia che sono entrato già la gente rompe le palle. Dica, signor Wimbur, dica. Si esprima col suo solito metodo... Ho una cosa per te, oddio. È lunga e bitorzoluta? Vabbè, intanto che il signor Wimbur sproloquia, io intanto faccio l'introduzione. Hola, hola, benvenuti in un nuovo episodio della Pirate Craft. C'è stato un piccolissimo episodio, lunga ma non bitorzoluta, che cazzo mi deve dare? Ok, va bene. Allora, c'è stato un piccolissimo episodio che ha visto coinvolti me e il signor Ikimoto. In pratica noi siamo andati là dentro, quella casetta, ma è una roba che è durata veramente... Si è lunga pure. Cazzo, ho capito, la voglio, sì. Siamo andati in quella cazzo di casetta dall'altra parte e abbiamo ucciso un po' di Blaze. Abbiamo scoprendo, tra l'altro, che quella là è un'ottima farm di Blaze, perché essendo semi-sommersi, i Blaze si fanno male con l'acqua ed è un ottimo modo per farmare a caso delle cose. Comunque, fatto sta, mentre io sto continuando ad andare verso casa di Ikki, che noi abbiamo avuto qualche disguido tecnico, per quanto noi, inteso come plurale me e statis massimiliano, abbiamo avuto qualche problema di registrazione, perché in pratica la registrazione crashava. Ma questo probabilmente era dovuto al fatto che avevo il PC completamente pieno di roba. Quindi mi sono messo a renderizzare come uno stronzo e avendo così liberato il mio disco fisso sono riuscito... Madonna santa, quella persona lì io non la voglio. Quella persona lì io non la voglio. Che cazzo mi ha rubato? Penso di sì. Che palle. Vedete, non si può... Che cazzo è? Non ci posso credere. Come si usa, come si usa? Nothing in sight. Found grass block. Cosa? Ma... LOL? Cioè, è un cazzo di cannocchiale. Mi può far vedere qual è... Ping... Basalt. Bellissimo! E quindi posso fare così? E quindi così posso fare... Hanno un entity per il signor Wimbor? Ma è... Fichissimo! Come cazzo è fatta sta roba? Da che cazzo è? Mind factory reloaded. R di Recipe. Cazzo! Non è neanche economicissimo. Figata però! Sì, me l'ha ridato. Ok. Fichissimo! Allora, il signor Ichimoto, come ben saprete, ha fatto... Sappi che voglio una minzione. Ti amo, Wimbor. Wimbor penso che voi lo conosciate tutti. Se non lo conoscete... Guarda Carbancos! Non mi sente, ma mi copia lo stesso. Strumento da pirata. Sì, infatti, infatti, infatti. Allora, se non lo sapete, peste vi colga. Ma in caso non sappiate, il signor Wimbor... In caso non sappiate, il signor Wimbor mi ha accompagnato per... Madonna santa, sto cazzone che mi deve sempre seguire! Che palle! Perché non te ne vai fuori dal cazzo, Carb? Perché non te ne vai fuori dal cazzo, Carb? Grazie. Vattene fuori dal cazzo, Carb. Vattene fuori dal cazzo, Carb. C'ho l'ansia di quell'animale... Mezzo cazzo di cuore. Adesso, zero. Culone. Carb, culo e culo, chi non lo dice. Insomma, Wimbor è un pezzo di figo. Ha fatto metà di Erebor la scorsa stagione. Mentre Carb si suicida. E' sempre una persona che si rende utile con un sacco di cose strambe. Non lo si sente mai. Però quando lo si sente è una cosa molto bella per l'apparato uditivo. Comunque, insomma, siamo andati in quella cazzo di casa. Dieci minuti per dirlo. E abbiamo ucciso un po' di Blaze. E abbiamo guardato dentro le casse. Dentro le casse non c'è un assoluto cazzo. Nel senso che abbiamo visto semplicemente che c'era, non so, delle Netherworld, dei libri, delle bottle of experience, insomma. E altre amenità del genere. Però niente di particolare. In questo cazzo di episodio io volevo farvi vedere perché e per come io avevo intenzione di utilizzare l'energia infinita che mi aveva creato nello scorso episodio il signor Ikimoto. Con questo impianto veramente elegantissimo che mi arrivi fin dentro casa. Come i più sbaliziati di voi avranno potuto cogliere io ho qui dei pistoni, va bene. Ne ho fatti 16. Perché ho bisogno di fare dei pistoni? Perché oggi iniziamo una mod che a me è sempre piaciuta ancora dalla prima edizione. Che è la MineCam. La MineCam è una cazzo di mod composta essenzialmente da tre oggetti. Cioè il microscopio, il Chemical Decomposer e la Chemical Synthetizing Machine. Che permette di smanettare un pochetto con la chimica di Minecraft, se così si può dire. Nel senso che se analizza un oggetto, si guarda di che cosa è composto, se ne possono staccare dei pezzi per poi rimetterli insieme in una maniera differente. Adesso vado a spiegarla più nel dettaglio una volta che io avrò effettivamente fatto questi tre strumenti. Ovvero il microscopio, il Chemical Decomposer e la Chemical Synthetizing Machine. I pistoni servono a questo. C'è bisogno di tanti pistoni e di un blocco of iron per fare le cose. E per il microscopio c'è bisogno delle lenti da microscopio che sono fatte semplicemente da vetro. Crafto in velocità questi tre elementi e dopodiché ritorno. Arrivo immediatamente. Ok, come al solito il signor Vimbor ci ha benedetto con la sua grazia con un sacco di vetro. Quindi adesso potremo farci effettivamente gli ultimi pezzi. Avrei anche un'altra cosa. Mentre queste altre sono come era? AX. Quindi così e quindi così perché ce ne servono due. Perfetto. E adesso dovremmo poter fare tutto quanto, però ci servono anche le piastre di vetro. E dopodiché ci servono anche le bottigliette di vetro. E adesso vi mostro un attimino con calma cosa cazzo significa tutto questo. Ho bisogno di un libro. Libro, 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 libro. È impossibile che non abbiamo dei libri in maledizione. Cazzo, ero sicuro di averli. Sono pieno di libri io. Ma, oh cazzo. Adesso l'intera serie è andata a puttane perché non riesco a trovare un libro. Ragazzi, non è possibile. Ero sicuro di averne tipo tantissimo, tantissimi, tantissima E. Ma che, aspetta. No, non possono essere qui. Sono forse qui di... Porca puttana. Che cazzo? Da FUK. Ma... Aspetta che mi libero di queste cose. Vabbè, la chest, la leva e il cursore. Allora, fate finta che dall'intro di questo video e da adesso sono passati svariati giorni. Ma dovete solo fare finta perché non è così. Fatto sta che io non mi ricordo molto bene dove ero arrivato. Sarò arrivato sicuramente il fatto di dire che, porca puttana, ho cominciato la minecam. Ed era per quello che effettivamente mi serviva l'armamentario dell'energia infinita del signor Iki Motors. Adesso, se noi andiamo ad attaccare i macchinari, che sarebbero questo e questo, che cominciano a ciuppare energia, in teoria. In teoria. Eccolo qua, infatti qua si storaggia un sacco di energia, di mega joule, che tra l'altro va anche ad abbassarsi nel tempo. Continua. Ma qua cazzo, mi stai prosciugando la batteria? No, è sempre piena. Che cazzo? Non sprecherò energia questi macchinari. Bug. Bug. Guarda che roba, è sempre piena. Quanto cazzo... Boh, si vede che... No, non ha senso. Vabbè, chi se ne frega. Come cazzo funziona la minecam? Innanzitutto bisogna piazzare per terra sto microscopio, da qualunque parte. La ricetta ve la devo avervela già fatta vedere un'altra volta. La piazziamo qua perché non abbiamo altro da fare. L'interfaccia è questa. Voi semplicemente avete queste cose qua e fine. Allora, io una volta avevo dei libri. Libri, 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 libri. Eccoli qua. E avevo anche le fottute boccette. Può essere che avevo le boccette. Chissà se avevo le boccette, 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 boccette. Che casino. Sì, eccole qua le boccette. Allora, se io unisco una boccetta a un cazzo di libro, vengono fuori questi chemist journal. E se io prendo... Facciamo finta che prendo la sabbia. Dai, facciamo finta che prendo la sabbia. Facciamo finta che prendo la sabbia. Io adesso metto un chemist journal qua dentro e ci metto dentro la fottuta sabbia. La sabbia, dato che la sto guardando al microscopio, mi fa vedere che è composta da questi cazzo di cosi. D'accordo? Da questi componenti qua. Che è di ossido di silicone. Di silicio, anzi, per essere precisi. Io non so bene a che cazzo mi serva, d'accordo? Perché non... Adesso vediamo un po' il glass panel. È fatto da un... Da uno silicon di oxide. Entrambe le ricette sono state immagazzinate all'interno di questo chemist journal che infatti, se noi le apriamo, ci fa vedere quali sono le varie decomposizioni e quello da cui sono composte questi elementi qua. Forse i più smalizzati di voi avranno già cominciato a capire, ma in pratica il decomposer e il synthesizer servono semplicemente per spacchettare un elemento nei suoi sottocazzetti, praticamente, in maniera tale da poter far sì che tu puoi prendere singolarmente questi cazzetti e rimischiarli in un'altra parte. Per esempio, se noi andiamo nel decomposer e ci buttiamo dentro una quantità esagerata di boccette che potrebbero essere tipo 30 e ci mettiamo dentro della sabbia, la sabbia viene immediatamente scomposta in 16 boccette di silicon dioxide, d'accordo? Sentite come parla bene, invidia, io sono negro, stai zitto. Mentre invece, se noi andiamo nella chemical synthesizing machine, noi abbiamo due cose diverse che possiamo fare. O prendiamo la cosa che noi vogliamo, per esempio, vogliamo fare la sabbia o vogliamo fare il glasspanel, facciamo finta che vogliamo fare il glasspanel. Entriamo nella chemical synthesizing machine, mettiamo dentro il glasspanel e viene già la ricetta, d'accordo? Mentre, noi qua sotto dobbiamo mettere gli ingredienti, qua dentro dobbiamo mettere la ricetta che prima è semplicemente fantasma e dato che noi gli abbiamo dato effettivamente tutto quanto quello di quello là che gli occorre, noi dobbiamo semplicemente cliccare qua sopra di glasspanel e ci viene fuori l'oggetto. Abbiamo bruciato uno di diossido di silicio e viene fuori solamente un tubo di test vuoto. Adesso io non ho idea, praticamente, delle altre ricette, ma suppongo che se io comincio a smanettare con questo cazzo di diossido di silicio, che non è così, ma è così, mettiamola che così, non è neanche così, proviamo a metterlo così, ok, non viene niente, comunque in pratica mettendo in varie altre maniere questo cazzo di ossido di silicio, signor dio, mabba, che cazzo ha in testa? Una trivella, cos'è? Un laser, un faro. Dovrebbero venire fuori altre ricette, per esempio, andiamo, prendiamo un pezzo di vetro, un pezzo di vetro, anche questo sarà tendenzialmente composto da diossido di silicio. Buttiamo dentro il Chemist Journal per ricordarci la ricetta, buttiamo dentro il questo, ah, eccolo qua, fatto con 4 diossido di... ah, con 16, però disposto in questa maniera qua. Quindi per cui io, per esempio, per creare del fottuto vetro, posso prendere questi due, no, anzi, ne posso prendere solamente uno, veramente. Facciamo finta di aver capito come funziona sta mod. metto questo qua per la ricetta fantasma, metto questo qua, qua va la ricetta fantasma e mi sono fatto un glass panel. Adesso ho 16 cazzo di tubetti vuoti, posso andare nel decomposer, mettere dentro della sabbia, che non può ancora venire sintetizzata, metto dentro i tubi, boom, fatti tutti quanti cazzo di 16 di silicone. Se io vado qua nella Synthetizing Machine, metto qua, anzi no, che cazzo sto facendo? perché, vedete, tipo questi qua vengono salvati immediatamente, dunque 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, e 1, 2 e 3, e indovinate un po', 4, e viene fuori questo cazzo di vetro. Quindi adesso io posso fare Shift destro, vengono fuori 16 cazzo di boccette, e il vetro, e io mi sono fatto il vetro, d'accordo, senza preoccupazione del fatto che io avevo una fornace, o cazzi vari. Logicamente, questa cosa qua brucia dell'energia, che adesso qua si sta continuando a storaggiare all'infinito, e infatti sta finalmente, sta lì, di solo l'ergi cell, è vuota, d'accordo? Però, in, per queste cose qua, è un discorso, d'accordo? Proviamo a metterlo qua, in maniera tale che, allora, ping, ci bruciamo tutte quante le cose, questo va via, e abbiamo di nuovo i test tube. Adesso, questo qua, era praticamente, semplicemente per un trick, ma, se mi date 30 secondi, ve ne faccio vedere uno un attimino più fico. Dì, ci potrebbero essere dei fiorilini azzurri che farò nel caso mio, ne prendo uno, ne prendo due, ne prendo tre, e ne prendo, c'era un quarto, questo si mette poi in alto. Sono sicuro che sarà proprio quello che non mi serve, dunque facciamo così, blu, viene fuori il light blue, d'accordo, ed ecco il signor babbone, che ci porta, ping, va bene, ci ha portato un po' di lapislazzuli, aspetta che ci liberiamo il, l'inventario dal charpame, che come sempre, dimmi, 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 ho visto che non riuscivi a prenderlo, sì, boh, perché qua come al solito, all'interno della, della fottuta cosa, c'è troppa roba da fare, ok, e abbiamo anche del lapislazzulo, proviamo a, inserire qui dentro il lapislazzulo, prendiamo il, che, no, il chemislazzulo c'è già dentro, lapislazzulo lo mettiamo qua, è fatto da una lazzurite, che quindi è composta da sodio, alluminio, silicio, ossigeno, e, e, e zolfo, d'accordo, se mi ricordo bene, perché potrei anche sbagliarmi, mentre invece se io prendo il light blue, è composto da una molecola complessa, che sarebbe, ah, copper, 2, solfato, quindi praticamente, che vediamo se siamo fortunati, allora, togliamo via questo qua, è composto anche, dunque, voi ricordatevi copper 2 solfato, avete visto che c'era copper, cazzo, ok, quindi adesso noi prendiamo un blocco of copper, e ci facciamo magari un lingotto, d'accordo, e lo rimettiamo qui, perché insomma non è che ci serve, e proviamo ad analizzare il copper, copper, come, da che cosa è composto? Da un cazzo, perché, ah, magari non è, non è il copper giusto, maledizione, proviamo a mettere, questo copper qua, e anche questo non lo trova, questo è fastidioso, in pratica, sto light blue dye, ha dentro di sé, del, del copper, del, ah no, Q, sì sì sì, Q è copper, cazzo, quindi, se noi prendiamo questa cosa qua, e, ci mettiamo dentro, le famose boccette, no, questa è la chemical synthetizing, le ho messe al contrario, tra l'altro va bene, e la mettiamo qua nel chemical decomposer, scomponiamo queste cose qua, fino a quando ce ne sono sei, riscomponiamo queste, queste, queste boccette di molecola, in maniera tale che ce ne vengano, sia di copper, di, sì, di rame, sia di, di S-zolfo, sia di ossigeno, quindi adesso proviamo a rimettere, le empty test, e ne mettiamo solamente una, tanto vi devo solamente farvi vedere il principio, viene fuori una cazzo di, ah, fantastico, guarda, posso farle già così, e viene fuori, tipo boccetta, che c'è questa catena qua, come dire, è una molecola complessa, e questo qua, che è, vara stable transition metal solid, fantastico, quindi adesso, se io provo a mettere, il cazzo di copper, in qualche maniera particolare, che provo a metterlo così, vediamo un po', no, così non funziona, così, non funziona, proviamo a metterlo, 1, 2, 3, 4, eh, non ho idea di quanto copper, serva per fare il copper, è un po' brutta questa cosa qua, allora, fatemi provare con altri tipi di copper, e attorno immediatamente, il mobba giustamente dice, non ricordavo che i pirati, avessero fatto ricerche del genere, però, come possiamo dire, cioè, noi siamo pirati istruiti, ma ti ricordi mica come cazzo è che si cambia da un copper all'altro, non c'era una specie di tavolozza, eh, ma non so se ce l'abbiamo, era il, eh, aspetta, come cazzo si chiama, perché non posso, or qualcosa, ah, giusto, 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 vediamo un po', ore, è arrivato Mexican pride, è arrivato Mexican pride, signor Iki, capita, giusto a proposito, saprebbe mica dirmi, tipo, come si converte il copper, che io sono un pirata mentecato, e non lo so, punto di domanda, eh, Ikimoto, Iki, un copper, dietro le spalle, un altro, per Dio, Io tranquillo, ho parato il culo, grazie, signor, ma buonissima, signor, ci vorrebbe un ore conversion table, ecco, è in mancanza di, io quello cerco, punto esclavativo, vabbè, sentite, facciamo finta che non serve, comunque fidatevi sulla parola, magari anche se quel cazzo di copper non va bene, eh, in pratica, questa mod serve per fare truschini del genere, cioè io prendo fiori, vieni a casa mia, prendi quello che ti serve, tu prendi fiori, li guardi dentro, vedi che componenti hanno, e tu sminuzzando centinaia di fiori, puoi farti lingotti di qualunque cosa, la cosa figa era che una volta con i fiori blu, si poteva prendere praticamente il materiale di cui era fatto, ovvero di solito la lazzurite, e mischiando la lazzurite dei fiori blu era possibile ottenere pietra di lapislazzurro, in questo momento non sono riuscito ad avere successo con la ricerca, ma dato che io, oltre ai pirati dei Caraibi, sono anche un accalito sostenitore di Breaking Bad, adesso mi farò, analizzerò praticamente ogni cosa che succede sulla terra, in maniera tale da poter avere una, madonna santa, qua è ancora vuota tipo, perché qua continua a ciucciare, ma quanto cazzo tiene dentro, l'infinito tiene la sintetizing, boh vabbè, più che altro perché in teoria ho poi craftati anche la netherstar, però vabbè, comunque, in pratica, io non ho ancora idea delle cose, però presto l'avrò, adesso, dato che io ho purtroppo molto da fare, perché in questo momento sto, come si dice, sto imballando la casa perché devo, come si dice, perché devo trasferirmi, tipo dopo domani devo essere in una casa nuova, dove non ci sarà internet, metterne un'idea voi di come vedrete questo video, ma non fa niente, penso che sono già giunto ai saluti finali, d'accordo, questo qua è stato un repiso di un po' inutile, mi dispiace per essere così sotto tono, oggi non c'era Marcus Cron a bustarmi gli iscritti, abbiamo solamente un negro e un messicano, quindi rendetevi conto, e buttali via, siete il miglior negro e il miglior messicano che si potrebbero desiderare, in ogni caso, fatti staccioca fratello, eh dimmi? fatti staccioca fratello, tra l'altro, sono ancora curioso di vedere com'è che finirà, il tuo colosseo, perché ancora non l'ho visto, dato che ci avanza tempo, facciamo pubblicità, il signor Mavoro e il signor Ikimoto, come già saprete tutti quanti, ma magari è la prima volta che vedete un mio video, quindi per cui non lo sapete, e hanno un canale YouTube, entrambi i canali di YouTube, sono menzionati qui sotto nelle descrizioni, il signor Ikimoto è un malato mentale, nel senso che tipo, lui trova ogni modo possibile per fare energia infinita, di solito, e tutto quanto quel faro, e metà di tutta quanta la costruzione là dietro, è tutta quanta opera sua, andate nel suo canale e tentate di capire che cazzo sta succedendo, tra l'altro l'impiantino di energia infinita, me l'ha fatto lui l'altro ieri, tre giorni fa, non mi ricordo quando l'ha fatto, comunque questa cagata qua, che sfrutta il vulcano, tra l'altro senza deturparlo, è opera sua, andate nel suo canale, vedete che cosa ha fatto, se ne avete voglia, e la persona che ci ha tenuto vocalmente compagna è invece il signor Mabone, saluti signor Mabone, salve 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 salve, perfetto, il signor Mabone sta tenendo su una serie che si chiama, Olimpicraft, che si chiama Olimpicraft, ultima volta dove in pratica lui sta costruendo delle cose, l'ultima cosa che sta costruendo è il cazzo di Colosseo, quindi per cui direi che val bene una sbirciata, ok, dopo aver sponsorizzato un po', un paio di membri della Geek Battery, ricordandovi comunque che siamo in tanti, e che sarebbe dopo iscrivervi a ogni canale sulla terra, io penso che vi saluterò, tra l'altro a tempo indeterminato, perché io non posso più registrare video, e fino a quando non avrò internet nella prossima casa, non ho idea tra l'altro neanche di quando effettivamente vedrete questo filmato in sé per sé, considerato che null'altro, per ora è rimasto da dire, dal signor Mabone, dal signor Ikimoto, e da Max Dei Berrofronzo, adios a todos!